Gli incontri sono stati profigui ieri come lunedì e come altri ce ne saranno importanti la settimana prossima, quindi sia come Anci e sia come città di Napoli e città metropolitana stiamo facendo davvero tanti tanti incontri, ieri utili alla difesa, al Ministero dell'Interno, col CONI, al Ministero dell'Economia, col Ministro De Vincenti e anche altri, è importante che si lavora su strategie, su fatti concreti, veramente su tutti i punti centrali della nostra città, mai interlocuzione è stata così forte, concreta e fattiva con il governo, negli ultimi sei anni è la volta in cui maggiormente si riesce a incidere senza arretrare dalle nostre posizioni, quindi c'è un'interlocuzione forte e credibile della nostra città nel rispetto delle altre istituzioni. E' importante anche il lavoro che si sta facendo sulla sicurezza, che è stato un punto centrale col Ministro dell'Interno. Ci saranno delle novità importanti che metteremo in campo poi in sede di comitato, qui col prefetto, i vertici delle forze di polizia, mi riferisco in particolare al tema del basto e di Piazza Garibaldi, non solo in un'ottica di, ovviamente, di chiamiamolo ordine pubblico repressione per capirci, ma azioni coordinate a 360 gradi. Poi la grande soddisfazione dell'esito del tavolo col Ministro De Vincenti, perché stiamo rispettando, contrariamente a quello che si diceva da parte di qualcuno, il cronoprogramma, che chiaramente è fatto di molti passaggi amministrativi, quindi è meglio sempre non dare proprio date precise, ma soprattutto sui temi centrali, come le vele, le metropolitane, i lavori pubblici, si sta andando veramente benissimo. Quindi sono tutti lavori che la città vedrà iniziare nelle prossime settimane o terminare in alcuni casi, come per esempio il tema su cui anche c'è un'accelerazione importante sull'Università di Medicina a Scampia e anche altre. Poi stiamo lavorando lacremente per la Boscarello, perché sapete che là c'è un tema di rispetto, di cronoprogramma che tutti ci siamo dati e poi l'impegno adesso più grande, a Roma soprattutto, è sulla manovra economico-finanziaria, dove ci saranno incontri anche la settimana prossima, ci sono stati questa settimana, si sta lavorando, è un tema che riguarda tutte le aree metropolitane, tutti i sindaci e quindi c'è un impegno davvero forte affinché quei 3, 4, 5 punti più importanti, definiti ragionevoli dal Presidente del Consiglio, vengano inseriti nella proposta del Governo al Parlamento e notiamo anche una sensibilità diffusa delle forze parlamentari, quindi c'è un lavoro politico importante, c'è sempre chiaramente qualche ostacolo di troppo che pensa solamente al suo orticello, ma queste sono cose che fanno parte della politica, noi guardiamo agli interessi generali. E poi consentitevano di dire, visto che stiamo facendo un punto, stasera c'è un incontro molto importante per la città, per la città metropolitana, incontriamo i rappresentanti di tutte le sigle sindacali di ANM alle 21, ed è un incontro veramente decisivo perché si parlerà di tutto, di strategia, di obiettivi, dei diritti dei lavoratori, dell'azienda, degli orari, dei cittadini, di quello che sarà la gomma, il ferro e la fune in città e nella città metropolitana, i primi a saperlo saranno i rappresentanti dei lavoratori. E questo è anche un segnale importante, come vedete non vi anticipo nulla, però sono giorni decisivi a cui seguirà tra lunedì e martedì, credo martedì, perché lunedì abbiamo il Consiglio Comunale, quindi quasi sicuramente al 99% martedì un incontro del Presidente della Regione, mercoledì saremo all'Assemblea nazionale del Lanci e faremo anche una serie di incontri con il Governo ai massimi livelli la settimana prossima. In questi giorni Napoli è la città metropolitana di Napoli, però se posso aggiungere il Paese, visto che tutti i sindaci siamo uniti, ci stiamo giocando delle partite nell'interesse dei cittadini davvero molto importanti.